Buongiorno, mi chiamo Giovanna Guarnaccia, sono responsabile delle risorse umane delle aziende fuori muro in Rele, Metrocargo Italia. Rappresento un network di imprese che si occupa del trasporto ferroviario delle merci e della logistica ferroviaria, quindi un progetto complessivo che abbraccia tutti i settori, tutte le aree di questo settore ferroviario, quindi far conoscere e diffondere la logica del trasporto ferroviario delle merci e chiaramente effettuare questo tipo di trasporto con i nostri mezzi e il nostro personale. Proprio relativamente al personale, siamo molto attivi in quella che è la formazione di nuove risorse, mi riferisco a macchinisti e a preparatori del treno, con possibilità di accedere a questi percorsi formativi anche tramite l'azienda, avendo conseguito un diploma coinquennale, preferibilmente in materie tecniche. Per quel che riguarda invece il personale impiegatizio, siamo sempre alla ricerca di ingegneri gestionali da avviare alle attività più tecniche all'interno dei settori della nostra azienda, mi riferisco ad esempio al settore SGS della sicurezza ferroviaria e al reparto dell'esercizio ferroviario. Ricerchiamo poi laureati in economia per tutte quelle che sono le altre attività di staff all'interno del nostro gruppo di aziende.